Allarmata dalle notizie avute e poi confermate in sede regionale in merito alla chiusura del punto nascite dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, l'amministrazione comunale di Ricata, con una nota a firma del sindaco Angelo Cambiano e dell'assessore alla sanità, ha chiesto un incontro al ministro della salute Beatrice Lorenzin per esporle direttamente le ragioni e le preoccupazioni che investono un intero territorio e quanti, nel corso degli anni, si sono impegnati per la difesa del punto nascite dell'ospedale ricatese, rivendicando così il diritto a nascere a Licata e alla salute in generale. L'imminente chiusura del punto nascita di Licata, annunciata a più riprese, oltre che il nostro disappunto, nel constatare che non sono state comprese le ragioni di un territorio che sin dal primo momento ha lottato, intraprendendo un'opera di sensibilizzazione e perché mai avrebbe voluto rinunciare all'importante struttura, spiace più di ogni altra cosa il rammarico della doverosa accettazione di una situazione che da tempo preoccupa e all'arma Licata e i comuni dell'Interland. Diversi gli argomenti che l'amministrazione comunale intende porre all'attenzione del ministro Lorenzin e che spingono a portare avanti la richiesta di mantenimento del punto nascite a Licata, il quale, per motivi di opportunità, viene scelto dalle parti oriente di tutto l'Interland, come Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Riesi e Niscemi. Il numero dei parti registra un trend in gottina crescita, il numero delle nascite rilevate nel 2014, assolutamente positivo rispetto all'anno precedente, e destinato ad un ulteriore incremento nel medio periodo. Il numero dei parti cesari del San Giacomo d'Alto Passo è in diminuzione e l'eccellente lavoro svolto dal personale sanitario non ha permesso che si verificassero casi di mortalità. Ciò per quanto concerne l'aspetto puramente sanitario. A queste ragioni ne vengono aggiunte altre estrettamente legate alla situazione di marginalità territoriale in cui oggi si trova Licata a causa delle condizioni di pericolosità della statale 115 che necessita urgenti interventi di ammodernamento, l'unica percorribile per raggiungere i nosicomi di Agrigento e Gela. Il crollo del viadotto Petrulla, che di fatto ha reso impercorribile la statale 123 e che ha raddoppiato i tempi di percorrenza per raggiungere il barone Lombardo di Canicattì, che secondo le previsioni ministeriali destinato a centro d'eccellenza dovrebbe ospitare le partorienti di Licata. Da ciò la richiesta di un incontro urgente col Ministro della Salute Lorenzin al fine di ottenere il mantenimento del punto nascita.